Buonasera e benvenuti a questa seconda proiezione di TFFDoc, l'unica cosa che ho è la bellezza del mondo, che è il programma in cui abbiamo voluto mettere in relazione e far dialogare la contemplazione della natura, la minaccia della catastrofe e la poesia. In particolar modo la poesia, che è quella di cui parliamo stasera, di una poesia che si fa creatrice di mondo. Siamo molto felici di presentare Come si, come sa, di Marie-Claude Trijoux, che è qui e che è qui. Grazie. 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 penalty. Grazie a tutti. Grazie.